Non ti viene da di forza esagerato negli anni scorsi? Ma era un momento differente, no? Se vogliamo metterla così, io col partito di Bibiano non voglio averci nulla a che fare. Ma era un momento differente, no? Io non voglio avere nulla a che fare. Il Partito Democratico è quello di Bersani che prendeva soldi da Riva dell'Ilva, è quello delle cooperative rosse, è quello di Penati, è quello che ha avvallato tutte le porcate berlusconiane, ancora che credita la storia del Partito Democratico è differente di Forza Italia, è peggio! Ma era un momento differente, no? Se vogliamo metterla così... Senta, se Giorgio Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica, le chiedesse al Movimento 5 Stelle di entrare in un nuovo governo col Partito Democratico, lei cosa farebbe e come risponderebbe? Ma ho già detto che lui uscirà dal Movimento. Lei uscirebbe dal Movimento? Ma era un momento differente, no? Non crede più nessuno a questo partito che ha impoverito l'Italia. Se vogliamo metterla così... Che metteremo fine al business dell'immigrazione. Metteremo fine al business dell'immigrazione che è cresciuto a dismisura, sotto il mantello della finta solidarietà. Ma era un momento differente, no? Tu rappresenti le banche, i poteri forti, dici una cosa poi la smentisci il giorno dopo. Tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi qualsiasi cosa dici non è credibile da parte mia e da parte nostra. Tu sei una persona buona che rappresenta un potere marcio, che noi vogliamo cambiare totalmente. Mai andare al governo senza le elezioni. Mai andare al governo senza le elezioni. Mai andare al governo senza le elezioni. Ma era un momento differente, no? Ma io ho appena detto che lui le alleanze non ne fa, che vuole essere... Con il massimo rispetto, io credo aver risposto a questa domanda forse un milione di volte. Allora, per essere ancora più chiari, i giorni in cui il Movimento 5 Stelle non succederà mai, se dovesse alleare con i partiti responsabili dell'istituzione dell'Italia, io lascerei il Movimento 5 Stelle. Ma era un momento differente, no? Io vedo in questo PD un atteggiamento ancora più subdolo di quello di Renzi. Con questo PD io non ho nulla a che vedere. Con questo PD io non ho nulla a che vedere. Oggi io non vedo un dialogo col PD di Zingaretti, ma proprio nei fatti. È un PD che si occupa di privilegi, che è coinvolto in tutte le inchieste di corruzione sulla sanità, Calabria, Umbria, i soldi degli italiani che finiscono in corruzione. E questo è il PD che io vedo. Ma era un momento differente, no? Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Sto sentendo online tante persone che mi scrivono «Ti prego, non sedetevi al tavolo con Renzi, adesso sarebbe un errore madornale». Qui nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Ma era un momento differente, no? Questi del PD non è che vogliono ripulirsi. Il loro obiettivo è che noi un giorno diventiamo come loro. Se vogliamo metterla così. Se votate questa piovra, poi non vi lamentate più. Non ti viene da di forza esagerato negli anni scorsi? Ma era un momento differente, no?